Buongiorno, sono Scarpelli Riccardo Di Maier. Oggi sono qui a parlarvi di due dicespugliatori della gamma steel, le FS 120R e le FS 235R. Le FS 120R ha una cilindrata di 30 cm3 e sviluppa 1,8 CV, mentre le FS 235R ha una cilindrata di 36 cm3 e sviluppa 2,1 CV. Le due macchine io le consiglierei, le FS 120R sicuramente per un impiego più casadingo, una piccola villa indipendente e un utilizzo non molto assiduo della macchina. Le FS 235R lo consiglierei per un utilizzo più professionale, in modo che si stressi meno la macchina quando va a tagliare dell'erba molto alta, tipo negli uliveti e nelle campagne agricole.